Come cambiano? C.D.A. Attraverso Corrado Piancastelli, 39.981. Maestro Andrea, domanda Si potrebbe chiarire meglio la situazione dello spirito quando dopo la morte deve valutare i rapporti avuti con persone e cose della vita precedente? Come cambiano per esso i valori affettivi ed anche i legami con vari interessi? Maestro Andrea, in realtà non sono soltanto gli amici o le persone care della vita precedente a cambiare, perché già lo spirito è cambiato. Dunque, il ritrovare o il non ritrovare dipenderà esclusivamente dalle sintonie evolutive fra questi esseri. Il fatto fondamentale è che tutta l'affettività umana viene persa. Vengono persi tutti i suoi riferimenti oggettuali. Sappiamo che ciò non avviene subito, perché finché c'è la struttura animica, vengono conservati certi modelli interiori di affettività. Ma superata questa fase, lo spirito non ha più ricordi in senso affettivo. L'affettività è fondamentalmente un attributo della psiche. Se per affettività intendiamo una privilezione verso spiriti con i quali vi sono interessi evolutivi, allora questi si conservano. Ma vorrei stabilire una volta per sempre un principio basilare. Il fatto di incontrarsi sulla Terra, vuoi che si tratti di un rapporto genitori-figli, vuoi che si tratti di un rapporto uomo-donna, uomo-uomo o donna-donna, il fatto di stabilire una rete affettiva non autorizza a pensare che in Terra possa iniziare una relazione che duri per l'eternità, solo perché casualmente ci si è incontrati e si sono stabiliti i rapporti attraverso la rete dei connubi psicologici in un particolare momento della storia dell'umanità. Continua.